Iniziamo il nostro percorso ciclo pedonale da Stalis, i resti di un'antica struttura agricolo industriale risalente al 1400, che comprendeva un mulino con una macina per i cereali ed una sega per tagliare legname e poi alcune stalle, in dialetto Stalis, per l'allevamento di bovini e suini. C'era ancora un piccolo stabilimento per la lavorazione del pesce di acqua dolce. Proseguendo verso sud in tratti di strada sterrata e seguendo il sinuoso corso dell'Emene si raggiunge Boldara. Il fiume dapprima si restringe nel mezzo di una ricca vegetazione sulla quale posta anche una passerella per consentire ai pedoni di avvicinarsi alle sponde ed ammirare da vicino, fiori e piante acquatiche, cini ed anatre che svolazzano e starnazzano per difendere le loro covate. Più avanti una leggera cascata attraverso un ponte di legno sulla strada per Cintello. Di fronte compaie un complesso molitorio su più piani, costruito a ridosso delle acque dell'Emene allargato su una vasta palude. Qualche centinaia di anni fa il mulino apparteneva all'abbazia di Sesto a Reghena. Il mulino ha subito molti interventi e dallo stato attuale ha perso le sue grandi pale ed è inagibile. La palude su cui poggiava il complesso è stata bonificata ed è diventata un'oasi naturalistica ricca di numerose piante autoctone e anche le acque dell'Emene e della roggia battiferro che si incontrano sono state arricchite di piante acquatiche. Un parcheggio attivo con percorsi attrezzati e cartelli didattici consentono di ammirare da vicino questo successivo ambiente naturalistico. Il Lemene si dirige verso Porto Gruaro. Si continua il percorso sulla via bassa di Porto Vecchio incontrando qualche capitello dedicato a San Antonio e San Urbano e poi Villa Bombarda, immersa in un grande parco di piante arboree, continentali e mediterranee, attraversato dal Lemene, le cui acque ad un certo punto sono state canalizzate su paratie mobili verso due mulini. Questo sistema ha consentito di produrre energia elettrica attraverso i generatori a dinamo azionati dalle ruote a pale esterne, un impianto che risale al primo novecento e che forniva energia elettrica a tutta la frazione di Porto Vecchio. Al centro del parco sorge Villa Bombarda, antico palazzo di stile veneto-friulano, già proprietà della famiglia nobile dei Giustinian, poi Bombarda ed attualmente proprietà Furlanis. Dopo i mulini, il Lemene si allarga creando un suggestivo paesaggio di bosco, ponticelli ed acque correnti che scorrono veloci verso la città del Lemene fino ai mulini della pescheria, dove compiono l'ultimo salto dirigendosi poi verso Concordia. Proprio a fianco del fiume è tracciato un percorso stradale e pedonale che consente di raggiungere in breve tempo il centro storico di Porto Gruaro. Lasciato il centro storico di Porto Gruaro, si prosegue nella pista ciclo pedonale recentemente costruita nella sponda del fiume Lemene, che ci conduce a Concordia Sagittaria, a ridosso del centro storico. Qui è richiesta una sosta per quanti vogliono ammirare la basilica dedicata a Santo Stefano Martire, al Battistero e dai resti della chiesa paleocristiana. Tralasciato il ponte girevole, si prosegue per la pista ciclabile della Cavanella, abbandonando momentaneamente il corso dell'Emene e seguendo un tratto della provinciale jesolana, ci addentriamo nel Bosco delle Lame in località sindacale. Il Bosco delle Lame è molto affascinante per la ricca varietà di uccelli ed animali che lo popolano e che si ammirano mentre si cammina o si pedala, scoiattoli, lepri, fagiani, falchi di palude e cini, ed una ricca vegetazione di piante continentali e mediterranee che si distingue per varietà e bellezza dei tanti esemplari di Aceri, Trassini, Carpine Bianco, Salici e Dolmi. L'argine del canale sindacale che scorre attorno al Bosco è uno splendido balcone da cui si ammira un paesaggio stupendo della Val Zinago e di canali della Laguna di Caorle. Proseguiamo verso Maranghetto superando il grande ponte sulla strada jesolana dove il canale Malier incrocia e si unisce il fiume Lemene e percorriamo la strada sulla sinistra verso Maranghetto, un vecchio borgo rurale dove si attraversa il ponte Girevole e si prosegue nella dritta strada di campagna bonificata, rigogliosa e verdeggiante che incrocia la strada ottava presa e prosegue per San Gaetano, località che merita certamente una visita. Piccolo centro sorto attorno alla villa della famiglia del barone Raimondo Franchetti, protagonista della redenzione delle terre circostanti. Nella villa soggiornò lo scrittore Ernest Hemingway, grande appassionato di caccia e pesca, il quale dedicò alla laguna circostante alcune fra le più belle pagine del suo romanzo di qua del fiume e tra gli alberi, ispirato dal paesaggio vallivo. Molti ricordano questo territorio come la laguna di Hemingway. Da San Gaetano, proseguendo nello stradone barone Franchetti, si raggiunge l'idrovola delle Casere che risale ai primi anni del Novecento ed assieme all'idrovola di San Gaetano testimonia l'impegno per la bonifica e la produttività di queste terre da parte della famiglia Franchetti già proprietaria della tenuta di San Gaetano. Siamo all'interno dell'azienda agricola Casere e ci vuole dire le peculiarità di questa azienda, la produzione e in particolare mi sembra producete vino. Sì, allora dagli anni 70 l'azienda agricola Casere si è convertita dal seminativo che c'era in precedenza alla viticoltura. Per un po' di anni si è andati avanti a fare sia viticoltura che è seminativo. Adesso nel giro di quest'anno e soprattutto il prossimo anno verrà interamente coperta tutta la superficie disponibile, superficie vitata. I vini che produciamo sono tutti i vini tipici di questa zona a partire dal fiore all'occhiello della zona che è Lison, che è il nuovo nome del Toccai come bianco, poi abbiamo lo Chardonnay, abbiamo il Pinot Grigio, abbiamo il Riesling. Da un po' di anni a questa parte anche noi produciamo il Prosecco, poi come vini rossi abbiamo il Merlot, abbiamo il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon che sono vini internazionali, abbiamo un vino un po' più peculiare di questa zona che è il Re Fosco Don Peduncolo Rosso e per ultimo abbiamo un vino Lancellotta che è un vino un po' particolare. Siamo nel bel mezzo di una vasta area arricchita da un quadro paesaggistico ed ambientalistico di rilievo in cui si intrecciano campagne ben coltivate, folte boscaglie, aree turistiche attrezzate e si incrociano canali, bacini, argini, aree paludeose sino alla laguna di Caorle a Porto Falconera. Le cuiacque dell'Emene fluiscono nel mare Adriatico tramite il canale Nicesolo. Tendo dal sottopasso della strada provinciale, seguendo il percorso ciclabile a fianco del canale Saetta, non deve mancare una visita al villaggio dei pescatori alle bocche di volta, formato da tipici casoni con tetti spioventi fatti con canna intrecciata, abitazioni tuttora usate dai pescatori della laguna Veneta che rappresentano uno storico passato di quando vivevano esclusivamente con la pesca di valle, tanto amata da Ernest Hemingway che proprio qui molto spesso si recava a pescare anguille. Qui siamo sopra l'argine che divide Valle Nuova, sulla nostra sinistra, dal canalon. Siamo insieme al custode di uno dei vecchi casoni dei pescatori. A lui chiediamo come sono nati e come sono fatti questi casoni. I casoni sono nati come seconde abitazioni dei pescatori i quali andavano a pescare nelle valli, nelle lagune. Praticamente venivano usate come rifugio per il deposito delle loro reti. Una struttura in legno, di pali di legno, praticamente tanto è la lunghezza, tanto è l'altezza e metà la larghezza della fabbricazione. Una volta il casoni veniva praticamente da appoggiare tutto a terra. Poi c'è stata la variante che hanno fatto la piccola spalla per usufruire di più lo spazio interno.